Luigi Berlusconi, vacanze in montagna con famiglia e suoceri, le foto Il più piccolo dei figli del fondatore di Forza Italia sta trascorrendo le ultime settimane estive in Svizzera Un'ultima boccata di relax prima di tornare agli impegni di lavoro, rigorosamente in famiglia Luigi Berlusconi sta trascorrendo queste ultime settimane estive in Svizzera A Silvaplana, vicino Strada Moritz, con la moglie Federica Fumagalli I loro figli Emanuele Silvio e Tommaso Fabio e i genitori di lei, Fabio e Tiziana, imprenditori tessili Allergico alla vita mondana e sempre ben defilato dal gossip Il più piccolo dei figli di Silvio Berlusconi si gode la tranquillità della montagna Ma soprattutto i suoi affetti più preziosi Nelle foto pubblicate da chi appare sereno, inseparabile dai suoi bambini, che fa giocare insieme a sua moglie Al quale è legato dai tempi dell'università, e molto affiatato anche con i suoceri Che gli danno una mano Sposato con Federica dal 2020, per Luigi Berlusconi la famiglia è tutto Quando sono diventato padre mi è cambiata completamente la prospettiva di vita Ha detto a Bruno Vespa che lo ha intervistato nel suo libro Famiglia e figli sono l'espressione concreta della fede È l'amore divino che si fa terreno Da sempre molto credente È stata la fede ad aiutarlo a superare il dolore per la morte del padre Grazie Grazie Grazie